Con questo video vorrei fare chiarezza e spiegare cosa siano questi avvisi Tari ed Imu che stanno pervenendo ai cittadini, perché si sta facendo speculazione politica e soprattutto cattiva informazione. Parliamo prima della Tari dell'annualità 2016-2021. Innanzitutto la Tari su cosa si paga? Si paga sulla superficie calpestabile, cioè il 100% dei vani principali e di quelli accessori, tipo cantine garage, con esclusione delle aree scoperte, quali balconi e terrazze. Superficie calpestabile che il cittadino è tenuto a dichiarare. L'attività di accertamento su cosa è a suo effetto, quindi? Si effettua sull'80% della superficie totale indicata nella visura catastale di ciascun immobile. E quando scatta l'accertamento? L'accertamento scatta quando ci sono incongruenze o difformità tra la superficie dichiarata dal cittadino e l'80% della superficie catastale. E noi da quando ci siamo insediati ci stiamo muovendo in due direzioni. Innanzitutto verso le persone mai censite e che nel 2022 abbiamo messo a ruolo, ossia circa 500 nuovi utenti recuperando gli ultimi 5 anni. E poi verso gli utenti sui quali si riscontrano delle difformità ed incongruenze. Ma ci tengo a precisare che qualora si ravvisi la buona fede del cittadino, le sanzioni vengono tolte. Le attività di accertamento sono fondamentali per un ente, sia perché è corretto verso tutti i cittadini che regolarmente dichiarano e pagano, e sia perché è fondamentale per l'aspetto economico e finanziario del comune. Passiamo ora all'IMU. Per quanto riguarda l'IMU si sta accertando l'annualità 2017. Lo stiamo facendo per gli stessi motivi dell'accertamento dell'Atari e qualora il cittadino ritiene che ci siano degli errori sugli avvisi, questi saranno verificati e corretti anche per le annualità successive, eliminando le incongruenze presenti nella banca dati del catastro sulla quale si basa l'attività di accertamento del comune. Allo stesso tempo, laddove l'avviso di accertamento sia fondato, l'utente dall'anno dopo, cioè dal 2018 in poi, può ravvedersi spontaneamente senza sanzioni. È un modo per andare incontro al cittadino. Altra questione è poi l'IMU sui terreni agricoli. Siderno veniva annoverato tra i comuni parzialmente montani, attraverso la circolare del Ministero delle Finanze numero 9 del 14 giugno del 1993. Cosa vuol dire parzialmente montani? Vuol dire che solo i terreni agricoli ricadenti in alcune zone, aree ben delimitate, sarebbero stati esclusi dal pagamento dell'IMU. Il punto qual è? La Regione Calabria, per la città di Siderno, non ha mai indicato queste delimitazioni di area. Pertanto, in mancanza di ciò, l'ente comunale da legge è tenuto a tassare i terreni agricoli. Questa è la situazione, cari concittadini. Dimenticavo, si sta cercando di dare cattive informazioni su presunti protocolli sbagliati ai fini della nullità dell'atto. Non è così e si rassicura sulla correttezza e trasparenza dell'operato degli uffici e quindi sulla legittimità degli atti emessi. Il cittadino che è tenuto a pagare perché l'avviso di accertamento è corretto viene indotto così in errore e gli si fornisce un alibi, una scusa, che lo espone solamente a contenzioso inutile, ritardando i pagamenti che di contro il cittadino virtuoso ha fatto sempre correttamente e dentro le scadenze. Detto ciò, cari concittadini, comunque gli uffici sono a completa disposizione degli utenti o dei professionisti per eventuali spiegazioni e correzioni.